Ciao a tutti! Allora, oggi vi volevo mostrare una cosa un po' particolare, ovvero questa Pusheen Box. Questa mi è stata regalata, però noi già l'abbiamo aperta, perché eravamo troppo curiosi, però ho deciso di farci un video, perché è veramente, veramente molto, molto carina e volevo appunto condividerlo con voi. Allora, iniziamo subito. Questa appunto è la scatola e io vi faccio vedere cosa potrebbe uscire. Allora, potrebbe uscire il Pusheen classico, che appunto è qui all'interno della scatolina, il Pusheen nero e bianco, questo qui simpaticissimo con gli occhiali, questo col pavillon, questo qui cuoco, questo che fuoriesce dalla scatolina o comunque dalla busta di cartone e questo appoggiato su un libro. Poi c'è uno che ha sorpresa, è un'incognita, non si sa, insomma, cosa sia. La caratteristica è questa, nel senso che è possibile fare diversi tipi di combinazioni. Infatti, il Pusheen che vi esce, è possibile estrarlo dalla scatolina, dal piano, come potete vedere, ed è possibile combinare i pupazzetti con gli oggetti. Ok, allora, innanzitutto credo che non ci sia un limite di età, oppure sì, vediamo. No, allora, io non lo vedo, credo che non sia specificato, però vabbè, comunque sono dei pupazzetti. E niente, allora, andiamo a vedere subito io cosa ho trovato. Vabbè, qui sono tutte le avvertenze, se volete leggere. Sì, questo è carinissimo, questo è il Pusheen che esce dalla scatola, ovvero questo. Io, infatti, desideravo tanto che mi uscisse o questo o questo. Vabbè, che mi piacciono tutti, però in particolar modo mi piaceva questo e questo, e poi anche questo qui arancione. E mi è uscito questo qua. Come vi dicevo, si può staccare, vedete? Perché c'è qui sto cosino. Si può staccare e se deciderete di collezionarli, magari vi uscirà appunto questo con il pianoforte, potete attaccarlo sul pianoforte, e questo bianco metterlo all'interno. Insomma, potrete fare diversi tipi di combinazioni. Guardate, è carinissimo! E vi lascerò comunque il link qui sotto per poterlo acquistare. Ve lo lascio nell'info box, potete trovarlo su Amazon. Vi lascerò appunto, ripeto, tutto nell'info box. Poi, andiamo avanti. Vi voglio mostrare delle creazioni che ho realizzato io. Un secondo che sistemo la videocamera. Che ho realizzato io. Questa è una piccola nuova collezione, che si chiamano le Elfette dei Boschi. Allora, iniziamo con la prima. La prima che ho realizzato è questa qui, su questa lumachina. e l'adoro! È veramente carinissima! E la base è fatta in legno. C'è soltanto questa cornice. Poi al di sotto è fatta in pasta polimerica. E tutto il resto, appunto, come vi dicevo, la cornice è in legno. E io sono andata a colorarla. Poi, la seconda è questa. Aspettate, ok. E questa qui, anche in questo caso, la base è in legno e lo sfondo è fatta in pasta polimerica. Anche la roselina, no. Anche il fiore è fatto in pasta polimerica. Poi, questa è molto più elaborata, come potete notare anche da soli, perché all'interno ho realizzato anche questo sfondo. Allora, anche in questo caso la cornice è in legno. L'ho decorata io, l'ho colorata io. Lo sfondo è fatto in pasta polimerica. E poi, con la solita tecnica che vi ripeto sempre, ho realizzato lo sfondo. E poi, c'ho realizzato sopra questa elfetta. Spero tanto che vi piaccia. Allora, queste qui, ecco, l'idea è sempre quella di fare un'app, in realtà. Però, allora, le sirene pirata non sono più disponibili. Non so se le rifarò, però al momento non sono più disponibili. Preferisco comunque fare anche cose nuove, perché già fare commissioni mi comporta di realizzare comunque creazioni che già ho fatto. Quindi preferisco fare cose nuove. E quindi sì, credo che farò un'app dove saranno disponibili loro e anche le Starbucks. Eccole. Queste. E ovviamente io colgo anche l'occasione per ringraziarvi per i consigli che mi state dando nella realizzazione di questo ultimo ciondolo Starbucks. Visto che ancora lo devo realizzare, se comunque ci sono delle ragazze o comunque anche ragazze che hanno delle idee, dei consigli su cosa realizzare su questo ciondolo, io vi ringrazio. Poi raccoglierò tutte le informazioni e cercherò di unire i vari consigli. Sperando, insomma, mi riesca qualcosa di carino. Poi niente, ho realizzato comunque, come sapete, le vostre richieste, tra cui, non so se questa ve l'ho mostrata, ma credo di no. Questa comunque è sempre una creazione vecchia mia che mi è stata richiesta e quindi ho nuovamente realizzato. Poi ho creato degli orecchini. Questa è Ursula con la conchiglia. Eccola. Poi mi è stato richiesto di fare anche Vaiana o Moana, insomma, da noi è conosciuta come Vaiana. e io ne ho fatte alcune anche per me. Così mi porta avanti per il futuro, insomma, per eventuali fiere. Ovviamente c'è anche il porcellino. Poi ho fatto anche Esmeralda. Esmeralda, eccola qua. Anche in questo caso mi è stata richiesta e ne ho fatte altre anche per me. E lei andrà ad essere abbinata con dei tamburelli. Però sono da cuocere, quindi ve li faccio vedere la prossima volta. E niente, ragazze, con questo è tutto. Io spero che le mie creazioni vi siano piaciute. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. E se mi consigliate appunto di fare un'app o magari di realizzare più creazioni per poi farci un'app. Insomma, aspetti i vostri consigli. Io, come a solito, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!